Il Movimento Provinciale di Sabili, guidato da Davide Sarno, chiede l'abbattimento delle barriere architettoniche nella sede del piano di zona S4. È assurdo, sottolinea Sarno, che tali uffici siano inaccessibili a coloro che dovrebbero essere nei fruitori principali. Se le altre amministrazioni non l'hanno fatto, lo si faccia ora. A rispondere il sindaco Lanzara, che annuncia una serie di iniziative sul tema Siamo in un comune nel quale l'attenzione nei confronti dei diversamente abili è pari a zero. Ora la musica è cambiata e metteremo in campo un'azione coordinata in tutti gli edifici pubblici per abbattere le barriere architettoniche.